ovviamente salvo disposizioni contrarie che da qui alla data fatidica possono sempre esserci perché se leggiamo l'ultimo dpcm fino a lunedì 15 febbraio non è possibile spostarsi se non nel perimetro della medesima regione di residenza e questo vale anche per le province autonome il tutto logicamente fatto salvo i comprovati motivi di lavoro necessità oppure di salute invece dal 16 febbraio a 5 marzo gli spostamenti tornano a essere consentiti con la sola condizione che le regioni interessate al viaggio siano tutte in zona gialla perciò è pieno rispetto delle norme di sicurezza anticovid sarà dunque possibile pianificare un fine settimana fuori porta a una visita oltre confine regionale a parenti ed amici